Si sono rifiutati di pagare la cena che avevano appena consumato in un locale di Montevarchi e sono così dovuti intervenire i carabinieri che però hanno scoperto che uno degli avventori aveva con sé cocaina già pronta per la vendita. È successo la scorsa notte quando i carabinieri di San Giovanni Valdarno sono intervenuti in un ristorante di Via Cadorna dove erano stati segnalati da parte del titolare i tre giovani stranieri che si erano categoricamente rifiutati di pagare. I militari arrivati sul posto si sono subito accorti che uno dei tre era riuscito a darsi alla fuga. Sono stati così identificati e controllati i due giovani rimasti. Durante la perquisizione uno dei due, pregiudicato ventenne, è stato sorpreso con addosso un pugnale a lama fissa il cui porto è vietato e circa 7 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi. Per il giovane è così scattato l'arresto in flagranza per detenzione, fine di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata così come il pugnale. È stato poi denunciato anche per porto illecito d'arma da taglio. Mancato possesso di documenti di identità e insolvenza fraudolenta. Queste ultime due contestazioni sono state mosse anche all'altro soggetto identificato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni adesso sono al vaglio degli investigatori per cercare di identificare il terzo uomo. Insomma, alla fine della serata il conto è stato ben più salato di quello che i tre non hanno voluto saldare.